Giovanni Luciano, coordinatore della provincia di Chieti del partito di calenda Azione, che cresce e siamo a Lanciano oggi. Sì, cresce in Italia, cresce in Abruzzo, cresce in provincia di Chieti. Oggi siamo a Lanciano per annunciare formalmente, ufficialmente, l'ingresso di Giacinto Verna, che sarà quindi il nostro rappresentante nel Consiglio Comunale di Lanciano, quindi come Azione. Tra l'altro esponente di una importantissima realtà civica di Lanciano fino ad oggi, ovvero Progetto Lanciano, che da più di 15 anni sviluppa un'azione politica, un'azione civica in città, che conoscono tutti, è entrato tutto il gruppo dirigente di Progetto Lanciano e sono molto soddisfatto di questo. Giacinto Verna, già vice sindaco di Lanciano, oggi consigliere comunale di opposizione, del rappresentante del gruppo Progetto Lanciano, che aderisce ad Azione. Sì, da questo momento in poi abbiamo ufficializzato non solo il mio di passaggio, ma il passaggio di tutto il gruppo dirigente degli ex amministratori di Progetto Lanciano in Azione, il partito di Carlo Calenda. Questo significa che Progetto Lanciano, che comunque alle scorse elezioni amministrative, ha riportato un grosso successo, pari all'8% dei consensi qui a Lanciano, continuerà la sua esperienza politica e continuerà a lavorare per il bene di questa città. Ma era arrivato il momento che Progetto Lanciano si evolvesse e potesse portare avanti le proprie istanze anche a un livello più alto, andando oltre il confine di Lanciano e della Frentania. Quindi abbiamo voluto, in maniera convinta, in questi ultimi mesi ragionare sulla possibilità di entrare in un partito e la scelta è stata quella di entrare nel partito Azione. Perché Azione? Perché Azione è un partito start-up che si sta costruendo adesso e che quindi ci mette nella condizione di poter portare le nostre idee, le nostre istanze, le nostre competenze all'interno di questo partito, ma soprattutto perché ci riconosciamo in Azione in quanto Azione è un partito riformista, è un partito liberale, è un partito popolare, è un partito che si sta costruendo dal basso e che non si è limitato semplicemente a dire che i movimenti civici di cui io e noi siamo espressioni debbano essere privilegiati nel rapporto, ma ha voluto fortemente che gli amministratori locali di questi gruppi civici entrassero per essere il futuro e nel portare le loro istanze a livello anche regionale. E quindi per questo noi abbiamo aderito ad Azione in maniera convinta.